Mi hanno chiesto come fare a capire se si ha la casella di posta piena e se sia possibile risolvere il problema spostando alcuni messaggi in un'altra cartella. La posta elettronica consente di inviare messaggi in modo istantaneo e gratuito. Per utilizzarlo devi aprire una mailbox, cassetta postale, presso un provider fornitore. L'email funziona seguendo il modello client-server. Quando invia un messaggio a qualcuno, esso viene prelevato dalla tua mailbox e recapitato alla mailbox del destinatario. Ogni messaggio email occupa una certa quantità di spazio. E' come coi file. Più file conservi e più lo spazio sull'hard disk si consuma. Puoi risolvere il problema della casella piena cancellando i vecchi messaggi oppure aumentando lo spazio a tua disposizione sul provider. Postare i messaggi in un'altra cartella non risolve il problema. Molti provider non avvisano l'utente di avere la casella piena. Si limitano ad avvisare il mittente. Se usi Gmail, il tuo spazio a disposizione corrisponde a quello che hai su Google Drive. Questa è un'altra cartella, ma che è un affidato a disposizione. Ma che fai la chiudere il mercato è un problema. Sì, vediamo questa cartella.